Sì, ecco, abbiamo preso coraggio proprio in queste settimane, mesi, di fare qualcosa di importante, compreso l'arredamento di questi scudetti tutti intorno al palazzetto dietro i canesti, per ricordare la nostra storia, ma il servizio che il Palagalli ha fatto da sempre alla città, in particolare alle scuole. E le scuole che purtroppo per due anni non erano qua ci sono mancate, abbiamo da pochi mesi ritrovato un accordo con la provincia perché i ragazzi, le ragazze dei licei e dell'Isis tornino e ricominciano già dal 15, hanno ricominciato e ora cominceranno delle iniziative anche di tipo culturale, oltre che la classica ginnastica che è una materia curriculare per tutti loro. Questo palazzetto quindi è il Casaloro e siamo felici di questo. Non essendo sufficiente, perché si vede che vengono in due classi per volta a fare le lezioni, è impraticabile allenare 50-55 persone. Noi siamo quelli, abbiamo questa idea, un po' un sogno, di fare un'altra palestra accanto, ma di questo ne parleremo nei prossimi giorni perché facciamo un convegno tavola rotonda, facciamo l'incontro con le autorità e con gli sportivi e anche delle altre società. È un discorso aperto che ci auguriamo presto possa dare vita a una seconda palestra prevista qui accanto.